Un altro nuovo mulinello linea 2018 della Trabucco è l'Air Light 8000. Questo mulinello, come dice il nome, già dall'idea di quali potrebbero essere le sue caratteristiche, sono proprio quelle della leggerezza. Leggerezza ottenuta come? Ottenuta costruendo molte parti del mulinello stesso in carbonio, quindi un alleggerimento pauroso. Purtroppo le immagini non possono dare l'idea della poca fatica che faccio io per tenere questo mulinello, però fidatevi, comunque un mulinello che viene dato con tre bobine, una PE dedicata a chi vuole utilizzare la treccia, quindi tre bobine in tutto, guardate anche l'alleggerimento curato nella bobina con i fori, un mulinello che per la sua taglia si presta all'utilizzo di tutte le canne, dalle intermedie alle più potenti, un sistema di cuscinetti a sfera 6 più 1 nel guida filo, e anche la frizione, anche questa, è instant drag, quindi con un leggero movimento la apriamo e la chiudiamo, quindi io ripeto, quello che non potete vedere in questo momento, quello che non potete sentire è la leggerezza di questo mulinello, oltre ovviamente a un recupero che è lento, aspira incrociate, quindi molto curato anche questo aspetto, un grandissimo mulinello, il più leggero che la Trabucco abbia mai avuto, e quindi un grandissimo mulinello. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.